Sharon, tu sei alla Pixar da sempre. Hai lavorato come Supervisora dell'Illuminazione nel primo Toy Story fino alla direzione della fotografia del più recente film Cars 2. Come si è evoluta in questi anni la fotografia all'interno dei film digitali? Penso che probabilmente il miglior cambiamento che ho visto è che le strutture, i nostri processi e le nostre capacità hanno fatto in cui possiamo collaborare con l'unico molto più facilmente e prendere i nostri film a un livello più elevato da quello che abbiamo potuto fare 5 anni fa. Ci sono dei modelli appartenti al cinema su pellicola a cui ti ispiri nel tuo lavoro? Ci sono molti cinematografici che mi hanno influenzato durante i anni, Vittorio Storaro è ovviamente un grande cinematografico, Conrad Hall, Caleb Deschanel, di ovviamente Roger Deakins e c'è una lunga lista di persone che admiro. Io credo che la cosa che vorrei incontrare che le persone a fare la maggior parte del mondo è di fare la maggior parte di ogni opportunità e di mai vedere un progetto o un lavoro che è dietro a loro e di fare tutto quello che hanno fatto il meglio che può essere, anche se sembra qualcosa molto piccolo. e it will open doors that you can keep walking through and you'll get the more challenging work.